Ciao bambini, come state? Allora, la storia che leggeremo oggi insieme si intitola Ci pensa il tuo papà Santi papà, cosa faresti se cadessi in acqua? Beh, mi butterai per i pescarti Tutto vestito? Tutto vestito, anche con le scarpe E se nell'acqua ci fossero i coccodrilli? Beh, allora peccato per le mie scarpe E se non mi trovassi nell'acqua? Continuerai a cercarti Dappertutto, dappertutto E se non fossi più nell'acqua? Uscirei dall'acqua e continuerei a cercarti E se mi avesse trovato qualcuno prima di te? Qualcuno che volesse tenermi con sé? Beh, allora andrei a trovarlo E gentilmente li direi Perdonami Con un po' di gentilezza Si ottiene tutto E se un mostro volesse rapirmi? Beh, allora in questo caso Ricorrerei alle maniere forti Papà, sei grande Ma allora non c'è proprio, proprio niente Che possa separarci Assolutamente niente Non preoccuparti Ci pensa il tuo papà Cari bambini Io vi saluto Vi mando un bacio enorme E vi abbraccio forte forte Ciao